Sempre il prossimo concorrente Marisa Ciao Ciao a tutti Sono Marco Ho 22 anni e vengo da Mariano Comense in provincia di Como Ciao amici del canale di Luca Ranzani Oggi siamo qui con un super ospite Femme Ciao ragazzi Ascontaci un po' di te Allora diciamo che il mio percorso artistico nasce da ballerino Principalmente Quindi mi avvicino alla danza all'età di 5 anni E intraprendo questo percorso per 15 anni durante la mia vita Dopodiché all'incirca 6-7 anni fa Inizio anche a intraprendere un percorso canoro E da lì poi nasce Femme Quello che sono Sappiamo che hai partecipato a X Factor Cosa hai provato? Allora diciamo che X Factor indubbiamente In questo percorso canoro è stato L'exploit Insomma uno dei momenti più importanti della mia vita È stata un'esperienza meravigliosa Perché è un'esperienza Non solo televisiva Ma che ti cresce anche personalmente Quindi Sono molto grato a questa esperienza Che ha saputo insegnarmi tanto Anche a livello artistico Perché comunque ho potuto lavorare con professionisti E mi sono voluto cimentare Insomma Esibire davanti a milioni di persone Su palchi piuttosto notevoli Quindi oggi è un'esperienza che Mi ha insegnato tanto E sulla quale incentro un po' il lavoro che sto continuando a fare Se potessi tornare indietro Prima dell'eliminazione a X Factor C'è qualcosa che cambieresti? Ma Devo dire che sono molto contento del percorso fatto ad X Factor Quindi probabilmente non cambierei assolutamente nulla Solo magari la scelta dei pezzi assegnatemi Quindi avrei scelto un repertorio musicale differente Però sono comunque contento Quindi non avrei cambiato assolutamente nulla del percorso fatto ad X Factor Quanto conta cantare per te nella vita? Ti dico la verità Ad oggi per me cantare non è più solo una professione Come può essere il mondo della discografia Ma è una cosa che mi tocca dentro Quindi per me la musica vuole essere un messaggio personale Che ho da dare alle persone Se posso dare una mano con la mia musica Lo faccio volentieri E quindi per me oggi cantare è essenziale C'è tutto quello che voglio fare nella vita E se posso dire una cosa ci riesce molto bene Ti ringrazio Quale cantante ti ispiri? Diciamo che ci sono diversi artisti che mi piacciono parecchio Però se proprio dovessi sceglierne una Che purtroppo oggi non mi presenta Io ti direi Amy Winehouse Che per me è stata una grande ispirazione Lo è tuttora nonostante non sia tipo noi Però sì Lei artisticamente parlando è molto vicino al mio stile E poi anche come personalità Per quello che si è voluto vedere Per quello che si sa di lei È molto vicina a quello che sono anch'io Quindi mi ci rivedo un po' E per me lei è veramente Diciamo la mia cantante preferita E per me lei è un po' I live for myself Hell up, stop with display I am so tired to be your game I am so fresh, you have nothing to say You just can't scream to you Oh, eh, eh I'm from the black Even if I look like an old star Even if I'm an abyss from the bar Even if you love me like an occult I live for myself I live for myself Oh, oh, yeah I live for myself Live, 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 live for myself Abbiamo visto il tuo video, com'è stato lavorarci? È stata una bella esperienza, lavorare al video mi è piaciuto veramente un sacco Nel senso che principalmente mi ha visto come portatore di idee Nel senso che ho deciso tutto a partire dai costumi, dalle coreografie, dalle scenografie E dalla scelta della location E quindi, essendo stato così partecipe in questo progetto Per me è stato un orgoglio vederlo realizzato poi, no? Sono molto contento perché anche il team con il quale ho lavorato al video È un team di ragazzi giovani emergenti E quindi molto vicini alla mia realtà Che cercano di spingere, insomma, su questo lavoro Ed è stato molto... affrontato molto serenamente Ci siamo divertiti sul set E quindi quando ci si diverte poi... Quando lavoro e divertimento diventano una cosa sola Non può che essere una bella cosa È stata veramente una bella esperienza E ovviamente è solo il primo di tanti Quindi come approccio per il primo direi che è andata più che bene Sono contento Quindi ci stai dicendo che ce ne saranno altri? Allora, sì, ce ne saranno altri Adesso non posso spoilerare niente Perché, insomma, sai che è tutto molto segreto Il lavoro di un artista Però sto lavorando alle produzioni attualmente Quindi continuo a lavorare con il mio producer A tutto quello che è la costruzione dell'album musicale I progetti imminenti sono quelli di... Insomma, sono progetti un po' più concreti È vero, è uscito questo video È uscito indubbiamente per dar modo di farmi vedere Anche da chi costantemente mi segue Ma anche per, insomma, decidere poi sotto Cioè, questo pezzo, insomma, io l'ho usato anche un po' per affinare altre cose Che non posso dire Però questo pezzo, insomma, è uscito un po' per parare degli angoli Quindi ci saranno un sacco di news a breve Però sì, indubbiamente ci saranno molti altri video Aspettiamo con ansia Allora Allora, personalmente ti dico D'artista Per me il backstage è una delle parti fondamentali Per poi la buona riuscita di un lavoro Nel senso che E ti dico sempre per quanto riguarda il mio punto di vista A me piace proprio Occuparmi di tutti i dettagli Potrei anche benissimo solo mettermi in scena E in personificare Insomma, fare il playback della canzone Per far uscire il video Ma io voglio proprio occuparmi di tutto quello che è il lavoro finale E quindi probabilmente anche con il mio percorso passato da ballerino Che mi ha sempre visto comunque gestire anche spettacoli Insomma Ho questa parte gestionale di me Che non voglio metter da parte Perché secondo me un artista vero e proprio Deve poi saper Curare tutto Cioè non solo la parte canora in questo caso Perché sono un cantante Ma anche tutto quello che è la scenografia Tutto Quindi per me è fondamentale Cioè io vorrò sempre occuparmi in prima persona del backstage Dei miei progetti Poi un giorno magari quando avrò tantissime cose da fare E non riuscirò a farlo Cercherò di Metterci Comunque del mio sempre Come e dove ti vedi tra cinque anni? Ma bella domanda questa Tra cinque anni Spero e mi auguro di essere realizzato A livello lavorativo Nel senso che Essendo molto giovane Punto tutto Dopo la mia dedizione A quello che è la mia carriera Quindi se dovessi pensare Da qui a cinque anni Mi vedo realizzato Realizzato Come artista Realizzato come persona Perché Sai queste cose vanno sempre un po' di pari passo Una volta che poi riesci a realizzare Quelli che sono veramente i tuoi sogni Riesci a Vivere anche di un benessere personale Differente Quindi Me lo auguro Vi faccio questo augurio di solo Che pensi del nostro canale? Innanzitutto sono molto contento di essere qui Quindi grazie per questo invito E poi penso che sia una cosa fantastica Nel senso che Dar possibilità Di parola E di espressione Di pensiero A tutti questi artisti Insomma Già intervistati Nel vostro canale Trovo sia una cosa fantastica Perché la comunicazione È una delle cose essenziali Nella vita Quindi È un gran bel canale Ragazzi Sono contento di essere qui E grazie per avermi Grazie a te Ospitato oggi Davvero E seguite questo canale Raga Perché Almeno restate sempre aggiornati Di tutte le persone che Insomma Avete voglia di seguire Un bacio grandissimo Unicefam Ciao 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 Tutto bene E tu? No Tutto a posto Dai diciamo Sto già pezzando Devi dire Non c'è tutto? No Devi dire Siamo Siamo